In 30 secondi dici perché dovremmo seguire i tuoi video? Beh perché sono un tantino dissociata Sì, questo si vede Perché scherzo sempre con uno squaletto di peluche Questo non ha molto senso Ci sta E perché sono una professionista della salute naturale Con tanta esperienza vera, personale e professionale Adoro condividere il mio sapere Ho scritto molti libri di salute naturale E questo non è solo il mio lavoro Ma anche la mia vita, la mia passione La community dei miei video sta ottenendo dei risultati grandiosi Chi mangia finalmente sano Chi dimagrisce Chi impara a volersi bene Chi si rimette in forma E chi cambia mentalità Chi cura la pelle con le mie ricettine E come faccio a crederti e a iscrivermi? Non devi credere a me Basta che guardi qualche video O leggi i commenti per capire cosa puoi ottenere Se ti iscrivi al mio canale Oggi essere trendy e sani è la cosa più bella che possa capitare E la più giusta da fare Con i miei video è possibile I consigli sono facili, veloci, divertenti Insomma, finalmente un canale serio ma non serioso Impari, ti diverti e diventi anche tu trendy e sano Con Simona Vignali Iscriviti e provaci naturalmente Ciao Iscriviti e provaci Iscriviti e provaci